e ben trovati in questa breve lezione vediamo un attimo come organizzare i layer lavorando con AutoCAD e nello specifico anche come inserire almeno un modo per inserire porte e finestre allora introduciamo subito il concetto di layer e i layer in AutoCAD sono una sorta di lucidi cioè immaginiamo di disegnare manualmente su una serie di fogli trasparenti sovrapponibili uno all'altro noi potremo tranquillamente disegnare alcune parti in un foglio altre parti in un altro foglio vederli tutti sovrapposti oppure vederne soltanto alcuni sfilandone altri e rimettendone all'occorrenza ecco in AutoCAD il concetto è analogo noi potremo disegnare, possiamo disegnare su questi lucidi o layer in modo da poterli attivare o disattivare a nostro piacimento per poterli visualizzare semplicemente oppure stampare un esempio potrebbe essere quello degli arredi noi potremmo mettere tutti gli arredi su layer che possiamo chiamare radio in qualunque altro modo e visualizzarlo soltanto quando ci interessa e anche stamparlo è la stessa cosa all'impianto elettrico l'impianto idraulico e così via questo è il concetto generale allora vediamo un attimo come si impostano i layer nella versione di AutoCAD 2011 che è quella attualmente presente nello schermo ma in tutte le versioni di AutoCAD ultima generazione nel nastro horrible abbiamo questo pannello qui chiamato layer con il primo pulsante noi possiamo aprire una finestra che ci fa vedere quali sono i layer impostati allora normalmente se non abbiamo utilizzato un modello particolare noi avremo esclusivamente il layer 0 il layer death points è un layer di sistema possiamo dire così cioè un layer dove AutoCAD va a inserire i riferimenti per le quote e le misure per cui non lo dobbiamo assolutamente toccare allora per inserire nuovi layer c'è un apposito pulsante eccolo qua, nuovo layer, appare il suggerimento cliccando possiamo dare un nome a questo layer nel nostro caso faremo un layer che chiameremo murature invio ecco il layer 0 è il layer preesistente che non è possibile rinominare e nemmeno cancellare diciamo che in linea massima per questo tipo di disegni su layer 0 non metteremo nulla cercheremo di organizzare tutto i layer differenti creiamo ugualmente un altro layer che lo chiameremo infissi un ulteriore layer che chiameremo arredi e un ulteriore layer che chiameremo vuote con lo stesso sistema ne potremo creare quanti ne vogliamo allora vedete ad ogni layer è associato un tipo di linea e un colore ciò che cosa vuol dire? che se noi per esempio a layer infissi cliccando sul colore assegniamo un nuovo colore rosso tutto quello che disegneremo sul layer infissi sarà rosso allora con questo criterio possiamo dare dei colori differenti per quello che riguarda il layer murature lasciamo il colore bianco per gli infissi il colore rosso per gli arredi possiamo dare il colore blu e per le quote possiamo dare il colore ciano, geleste bene, una volta fatto questo possiamo tranquillamente chiudere la finestra adesso se andiamo nell'apposito pannello cliccando sulla finestra dei layer vedremo presenti anche i layer appena creati il layer corrente, quello in cui disegneremo sarà quello che cliccheremo da questa finestra se voglio disegnare sul layer infissi ecco clicco e vedete automaticamente apparirà layer infissi apparirà il colore rosso e così via occhio al discorso delle proprietà che sono qui a lato le proprietà sono le proprietà degli oggetti che disegniamo in questo momento vediamo che appare un colore rosso con la scritta da layer che cosa significa? lo possiamo capire cliccando sulla apposita finestra cioè noi troviamo una serie di colori impostati quindi giallo, rosso, verde eccetera e poi dopo troviamo una scritta da layer con il colore rosso quello significa che disegnando con queste impostazioni il colore dell'oggetto sarà il colore del layer quindi chiaramente se il layer corrente infissi il colore sarà rosso se il layer corrente è a ready il colore sarà blu bene detto questo poi vedremo come congelare o scongelare i layer cioè renderli visibili o no possiamo vedere anche subito cliccando sulla tendina noi troviamo vedete un sole se noi che ne so sul layer a ready clicchiamo sul sole questo diventerà un ghiacciolo e scomparirà tutto quello che è stato disegnato su questo layer in questo caso ancora non abbiamo disegnato nulla per cui non possiamo verificare questo ma lo verificheremo più avanti bene allora detto questo vediamo un attimo come disegnare porte e finestre allora iniziamo con le finestre allora ingrandiamo una finestra ecco qua allora le finestre le disegneremo su layer infissi per cui attiviamo il layer infissi poi con il comando linea clicchiamo da un punto all'altro invio facciamo la stessa cosa dall'altra parte invio adesso schematicamente uno 100 a scala uno 100 possiamo come detto anche per il disegno manuale fare due linee centrali che rappresentano l'infisso vero e proprio in quanto queste due linee rappresenterebbero diciamo così il parapetto sotto la finestra allora con il comando offset impostiamo una misura pari a 0,12 selezioniamo verso l'interno selezioniamo verso l'interno ecco qua in questo modo abbiamo disegnato in modo estremamente schematico e semplice un infisso allo stesso modo possiamo fare per l'altro infisso sopra quindi linea da uno spicolo a uno spicolo clic sinistro clic destro per confermare nuovamente linea clic sinistro clic sinistro clic destro per confermare comando offset per le parallele distanza 0,12 clicchiamo sulla linea e indichiamo da quale lato vogliamo l'offset in questo caso è il lato destro clicchiamo in un punto qualsiasi è il lato destro lo stesso modo lato sinistro bene in questo modo abbiamo disegnato così in modo estremamente semplice e rapido due due finestre vediamo adesso il discorso della porta ne disegniamo semplicemente una ingrandiamo allora se vogliamo disegnare una porta come abbiamo detto durante le lezioni da 0,80 abbiamo detto di lasciare uno spazio a 0,90 quindi la prima cosa che dobbiamo fare è verificare questo quindi prendiamo la distanza ecco qua qui è 0,86 che non va bene allora dobbiamo fare un buco esattamente di 0,90 per cui offset distanza 0,90 clicchiamo e andiamo dall'altra parte molto bene cancelliamo la linea che non ci interessa e possiamo poi raccordare tranquillamente l'esistente ecco qua bene adesso per poter rappresentare la porta con lo schema che abbiamo detto a lezione disegniamo prima due piccoli trattini da 0,05 che sono la schematizzazione del telaio della porta dopodiché l'anta mobile da 80 allora ci posizioniamo su infissi verifichiamo che per quello che riguarda le impostazioni dell'OSNAP sia selezionato il punto medio eccolo qua lo selezioniamo a questo punto con il comando linea agganciamo il punto medio e andiamo di 0,05 allo stesso modo all'altra parte punto medio 0,05 e a questo punto possiamo anche salire di 0,8 e abbiamo fatto adesso dobbiamo disegnare l'arco allora per disegnare l'arco esistono ecco il comando arco lo troviamo qui molte opzioni l'opzione probabilmente più comoda per noi è l'opzione inizio centro fine cioè clicchiamo su tre punti il punto iniziale dell'arco il punto del centro dell'arco e il punto finale dell'arco vediamo un attimo come funziona allora primo punto inizio centro e fine ricordiamoci sempre che gli archi vengono disegnati in senso anti-orario perché se avremmo cliccato come punto iniziale quello che poi è stato il punto finale avremmo costruito l'arco nel verso precedente ecco in questo modo possiamo rivedere il nostro disegno con un zoom estensione eccolo qua magari ingrandiamo la parte su cui abbiamo lavorato ecco in questo caso possiamo vedere bene l'utilizzo dei layer nel senso che se noi ci posizioniamo su un layer 0 per esempio ecco qua possiamo provare a congelare i layer infissi ecco congelando i layer infissi vedete sono sparite le due finestre che abbiamo fatto se congeliamo il layer muratore non succede nulla adesso vediamo come spostare gli oggetti che sono stati disegnati nel layer nel layer 0 nel layer muratore la prima cosa che possiamo fare è quella di congelare i layer infissi in modo da non sbagliarci dopodiché noi andiamo a selezionare prima ancora di dare un comando ecco qua tutti gli oggetti non li abbiamo selezionati questi sopra tutti gli oggetti vedete nel pannello layer ci viene indicato che tutta la nostra selezione è sul layer 0 noi la portiamo selezioniamo murature e automaticamente premiamo esca sulla tastiera tutto sarà nel layer murature come facciamo a verificarlo adesso siamo nel layer 0 congeliamo il layer murature eccolo qua e vedete non rimane più nulla ecco in questo modo abbiamo messo tutto nel layer corretto cioè il layer 0 di riferimento sarà diciamo così vuoto con nulla disegnato nel layer infissi avremo tutte le murature nel layer murature tutte le murature e nel layer infissi le finestre che abbiamo appena disegnato grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima occasione ok Grazie.